E' arrivato in tre secondi. con Aminelli, Salvati, Panaglioni, Basilio, Gesuale, Sabatini e Alvaro. Il tecnico è Mr. Cristian Argento, il panchino studiaco, Papa, Astrologo, Babushi, Morelli, De Marinis, Fiorio e Pino. Il fondo è il stadio con Fabiani, Sabatini, Patriarca, Fiori, Loro di San Paolo, 9 gol di campionato. Il valore gestito proprio dal stadio della fascia. Grazie a tutti. 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 Ragazzi! che passa Grazie a tutti